La suggestione della Via Crucis nella Magna Grecia ad Ascea. Enrico Doringer. Figlio mio! Perché? Continuano nel Cilento gli eventi pasquali ad Ascea, nella suggestiva cornice del parco archeologico di Ailea Velia, dove i focei nel VI secolo a.C. fondarono la loro città che divenne famosa per la scuola filosofica di Parmenide Zenone e per la scuola di medicina che ebbe come diretta discendente e la scuola medica salernitana, si è svolta la non edizione della rievocazione storica vivente del Calvario di Gesù, non la solita Via Crucis, ma una vera e propria rappresentazione itinerante che ha visto protagonisti gli uomini, le donne e i giovani di Ascea e dei paesi limitrofi, chiamati a dare corpo e voce al tragico cammino di Cristo verso il Golgotha. Ancora una volta l'antica velia è diventata la suggestiva scenografia della Via Crucis, curata dal parroco Don Peppino Greco, grazie all'attenta regia del professor Giuseppe Battagliese e all'organizzazione delle associazioni Parco del Cilento insieme per Velia.